Una grande prestazione collettiva. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita di qualità, di intensità, di quantità. Siamo andati sotto al loro unico e primo opportunità che hanno avuto. Siamo stati bravissimi comunque a continuare a giocare e a fare anche un secondo tempo importante dopo aver fatto un primo tempo di alto livello. Non si sono mai fermati. Sì, è giusto così. Adesso manca poco alla fine. Abbiamo detto che dobbiamo darci dentro e provarci fino alla fine. La squadra sta iniziando. È da tanto che sta facendo bene. Però sicuramente in questo momento con le prestazioni che stiamo facendo la fiducia cresce. È stata un po' aiutata anche dal modo di giocare del Renate abbastanza aperto. Non lo so se ci hanno... Ma il Renate ha reso la vita difficile a tutti. Quindi siamo stati bravi noi a far diventare una partita più facile di quello che poteva essere. Il Renate è una squadra che ha reso la vita difficile a tutti in questo campionato e non è tanto dietro da noi in classifica. Poteva rientrare in campo di vita. Infatti, quindi è una squadra che ha dei valori e oggi credo siano stati bravi noi a spegnerli e invece a mettere in risalto i nostri. Sì, avevamo fatto così anche all'andata e poi avevamo perso una partita assurda. Rivedendola, mi era sembrato che avessimo fatto anche una buona partita pur perdendo 4-1 fino al secondo gol loro. Per cui mi sembrava giusto riproporre la stessa cosa. Sì, è normale perché quando spingi con tanti giocatori e quando sei costantemente nell'altra metà campo è normale concedere qualche ripartenza, qualche opportunità anche a loro che hanno dei giocatori di gamba e dei giocatori che, ripeto, mettono alle corde tante squadre di questo campionato. Sicuramente loro non saranno stati in grande giornata, ma tanto ci abbiamo messo del nostro nel farla venire dalla nostra parte, nonostante, ripeto, siamo andati in svantaggio, immeritatamente. Quante cose si è andata sull'avvento? L'uomo di difensore, terzo e due sono arrivati in più. Lo volevamo, lo cercavamo e in effetti è stato così, no? Dicevamo che può essere decisivo anche il difensore e il gol di Di Gennaro dell'1-1 ci ha dato slancio. Ha riaperto la partita che era, diciamo così, a vantaggio della Renate e quello è stato un gol che è valso tantissimo nell'economia di questa partita. Poi il primo di Volcano, la partita di guerra e anche quei sette attività di SAU, piccole cose che fanno... Sì, no, beh, SAU ha bisogno di trovare un po' il campo dopo un anno che non gioca una partita. Abbiamo bisogno di tutti e soprattutto la prossima settimana dove avremo tre partite e sono tre partite difficili, anche se ne avremo due in casa e una fuori, ma è un Vicenza, Lecco e Mantua. È un bel trittico per cui abbiamo bisogno di tutti e dobbiamo prepararle al meglio. In una giornata così soddisfacente, così brillante, cosa che si può trovare di negativo nell'uomo? Ogni tanto anche no. Ogni tanto anche no, dai. Ogni tanto anche sì. No, no, abbiamo fatto un'ottima partita. Non so le occasioni sciupate, visto che quattro... Quando ne facciamo quattro, non siamo abituati a farne così tanti, va bene così, eh? Sciupate almeno quattro partite. Sì, sì, no, vabbè, ma abbiamo fatto una buona gara, quindi oggi... Siamo contenti di aver fatto un'ottima partita.